Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio parlare di un Kata Eiyan. Voi direte, ma cosa c'è da dire sugli Eiyan? Sappiamo tutto, di tutto, di più. Ok, sì, è vero, sapete tutto, sapete tutto. Ma c'è un Eiyan, l'Eiyan Yondan, che sfido chiunque di voi, quando lo fate in palestra, se o nella vostra storia, mentre lo facevate in tempi più, guardate un pochino più ragazzi, facevate all'ultimo il saltino indietro per tornare un pochino indietro perché si allungava a ritorno dopo i tre Morote Uke. Sicuramente qualcuno di voi faceva un saltellino indietro perché il Kata si allungava un po' troppo e l'Embusel non tornava. Ecco, è di questo che vi voglio parlare oggi, seguitemi. Già, i famosi tre Morote Uke in Koksudachi di ritorno del Kata. Poi c'è l'apertura e tutto lo sappiamo, c'è l'Itsagashira. Ma proprio questi tre Koksudachi a ritorno, questi tre Morote Uke, sono un po' il tormentone di questo Kata. Voi direte, ma come a me mi torna? O forse qualcuno di voi dirà, già è vero, anche a me qualche volta non mi è tornato, andavo troppo lungo. Allora ragazzi, facciamo un salto indietro. Kata Yan Yodan, un bellissimo Kata. Un Kata sempre, secondo me, come tutti gli altri Yan, da ripassare. C'è qualcosa che non va in questo Kata. Effettivamente c'è qualcosa che non va. Vado a spulciare nei grandi libri di Nakayama, dove ci sono anche tutti gli Yan, e vedo che in una pagina particolare, un grande Osaka che fa didatticamente il Kata in queste fotografie bellissime, molto didattiche, con gli schemi a terra, si vede benissimo che nei famosi due Yoko Gheri Huracan laterali, c'è scritto che bisogna scendere in Zeng Sodachi, ma il giapponese cosa fa? Scende su una linea. Guardatevelo bene questa immagine perché scende su una linea. Perché scende su una linea? È il discorso che vi facevo prima. Scende su una linea perché se scendesse veramente in Zeng Sodachi, il Kata, l'En Bu Zen, viene troppo lungo. Cioè il ritorno viene troppo lungo e salta il punto di partenza. Perché il Kata viene troppo indietro, a mio avviso. Quindi se voi fate, dopo l'Uraken e Yoko Gheri, tornate in Zeng Sodachi, arretrate troppo l'En Bu Zen. E alla fine, quando tornate con i tre Morotoke, il Kata viene lungo. Anni fa, quando ero più giovane, mi ricordo benissimo qualche maestro dell'epoca, insomma grandi maestri dell'epoca in cui mi andavo a allenare, mi dicevo, eh ma sto Kata è così, è un po' troppo lungo, bisogna fare un saltino indietro, è così. Ma è così? Non è così, perché il Kata, come sapete, specialmente nello Shotokan, c'è un En Bu Zen e bisogna tornare al punto di partenza. Tra l'altro vi lascio un link in descrizione su un Kata, fatto anche da Taichi Kase, un po' strano con tre saltelli, vi lascio il link in descrizione. Guardatelo se non l'avete visto questo video perché è bellissimo. E comunque, tornando a questo Kata e Yan Yondan, c'è qualcosa che non torna. Cioè se si va in Zeng Sodachi dopo i due Yoko Gheri, il Kata viene troppo all'indietro e non torna. Allora faccio indagini molto più approfondite. Vado a vedere il grande Kanazawa come lo faceva. Quindi andiamo a vedere Kanazawa cosa fa, cosa faceva. Lui scende in Zeng Sodachi, anzi dei bei Zeng Sodachi chiarissimi, due linee, perfetti. Allora come mai a lui gli torna l'En Bu Zen? Gli torna l'En Bu Zen perché dopo il Khai, quando ci si gira con la doppia parata, o l'Evans, a seconda dell'interpretazione, anche qui sarebbe da parlarne, non apre a 45 gradi ma apre molto di più. Quindi i due Moroto si aprono molto di più e quindi molto furbamente rimane molto indietro rispetto al punto di arrivo e quindi ce la fa coi tre Morote a tornare sul punto di partenza. Quindi se si fa, sfido chiunque di voi a provare in palestra, se si fa dopo il Yoko Gere Huracan e Zeng Sodachi e dopo il Khai si apre a 45 gradi, dopo i tre Moroto Khai vi troverete sicuramente nello spogliatoio perché l'En Bu Zen non torna. Quindi facciamo un passo indietro e ricapitoliamo il discorso. Il grande Nakayama nel suo libro scrive Zeng Sodachi ma invece non è un Zeng Sodachi, è chiarissimamente, nitidamente, su una linea il personaggio, quel momento Osaka, lo fa perfettamente su una linea. Quindi non è un Zeng Sodachi, lo fa perché sennò non torna l'En Bu Zen. Se si apre a 45 gradi dopo il Khai non torna l'En Bu Zen perché si va troppo lunghi e infatti Kanazawa cosa fa? Lo apre molto, io penso anche a un 60 gradi abbondanti in modo da rimanere molto più indietro rispetto all'En Bu Zen finale. E qui è il perché bisogna farlo così, cioè bisogna farlo. Si dovrebbe fare così perché provate in palestra ragazzi, l'En Bu Zen non torna. A meno me, a meno, a me, anni indietro quando lo facevo in maniera chiara e come me lo spiegavano, Zeng Sodachi dopo l'Uraken e poi dopo il Khai aprivo a 45, come dicevano, arrivava sempre nello spogliatoio. Quindi è così, infatti Katà non torna. C'è qualcun altro però che ci ha messo un pizzico di suo e ancora ancora un po' più strano. Seguitemi. Ok ragazzi, nella grande organizzazione di Kagawa, il grande Kagawa cosa fa? Dopo il primo Yoko Gairo Aken a terra fa il Mawashi Enpi, come tutti sapete, e invece di tornare a piedi uniti cosa fa? Richiama un pochino la gamba, poco, fa tipo una specie di piede scacciapiedi, diciamo, richiama un pochino la gamba e fa un altro Yoko. Ora questo mi lascia un po', un po' in confusione perché richiamando così il piede avanti sicuramente dovrebbe cambiare l'embousine. Quindi è già un altro modo interessante, tra l'altro sempre interessante, di vedere in maniera diversa questo Katà come viene interpretato. Quindi il Katà è un Katà veramente un po' rognosino perché se non si fa bene con questi accorgimenti, secondo me l'embousine non torna. Sfilo chiunque di voi che l'abbia fatto in palestra se non ha fatto mai un saltino all'indietro perché si arrivava troppo lunghi. Ok? Arriviamo alle conclusioni. Ok ragazzi, amici del Tempio, arriviamo alle conclusioni. C'è e sarebbe anche altro da dire su questo Katà. Per esempio l'ultimo Moroteu che tanti, tantissimi aprono in Zeng Sudaci e invece molti altri dal Kok Sudaci vanno direttamente per fare l'Itsagashira dove c'è poi il prossimo Chiai, il secondo Chiai. Quindi è un Katà abbastanza discurso a mio avviso. Quindi gli Aiyan come sempre vengono un pochino snobbati stupidamente perché c'è sempre da ripassare, sempre da studiare anche i Katà più indietro se siete già cinture nere avanzate. E quindi non bisogna mai tralasciare niente. Sui Aiyan Yondan ci sarebbe molto altro da dire, applicazione a non finire. Un bellissimo Katà preparatorio per i veri Katà da studiare. Quindi se siete allievi studiatevelo bene perché è importantissimo. Se siete maestri chiaramente sapete più di me ma ricordatevi di spiegare sempre questi piccoli accorgimenti perché sennò dopo 1, 2, 3 si va a finire nello spogliatoio se non nel parcheggio. Ok ragazzi, allora ci aggiorniamo, ripassatevi gli Aiyan iscrivetevi al canale e un salutone dal Tempio Massimo. Ciao! Grazie! Grazie!